Ciao a tutti amici di Arte Piana, oggi voglio parlarvi dei piatti doccia a filo pavimento. Conviene metterli, non conviene metterli, quali sono le caratteristiche principali? Ci facciamo una brevissima panoramica su questo discorso, perché comunque mi rendo conto che quando andiamo a rifare i bagni resina negli appartamenti, spesso e volentieri la scelta predominante è quella di avere un piatto doccia a filo pavimento. Per cui, subito dopo la sigla, ne parliamo. Intanto però che cosa devi fare? Sempre le stesse cose. Metti un bel like a questo video sulla fiducia e ti iscrivi al canale, così che potrai sempre continuare a rimanere informato su tutte le nostre iniziative e tutto quello di cui andiamo a parlare. Per cui, a fra poco, ciao! Bentornati qui nel nostro studio. I lavori dall'altra parte nello showroom proseguono alla grande. Io spero di farvelo vedere il prima possibile, però andiamo chiaramente un po' rilento, perché li facciamo nei tempi morti tra un lavoro e l'altro. In questo momento stanno lavorando, per cui tanto così, tanto meglio. Se senti dei numeri di sottofondo, spero di no, occhio su tutto quanto, sappi che dipende dai lavori che stiamo facendo dall'altra parte. Allora, dicevamo, i piatti doccia a filo pavimento. Convengono, non convengono? Io mi sono fatto un'opinione e ne parliamo un attimino insieme. Vediamo un attimino se la pensi come me. Allora, principalmente, cominciamo a dire cosa sono questi piatti doccia a filo pavimento. Lo dice la parola stessa. È un piatto doccia che viene inglobato all'interno del pavimento, quindi del massetto, e esteticamente tu, quando entri nel bagno, vai ad avere una soluzione di pavimento che non viene interrotto esteticamente dal piatto doccia rialzato. È una soluzione che viene adottata sempre più spesso dagli architetti, sempre più spesso quando vai a ristrutturare un bagno, perché? Perché è moderna, perché comunque sia, aiuta a dare l'impressione che quel bagno sia ancora più grande di quello che in realtà è. Tant'è vero che viene utilizzata spesso e volentieri nei bagni piccolini, proprio perché così, facendogli, va a dare spazio, va a dare profondità. Abbinata poi ad un box doccia in cristallo, secondo me è la morte sua. Vediamo un pochettino quelli che possono essere i pro e i contro di questo tipo di pavimenti e di questo tipo di piatti doccia e di che materiali possono essere fatti. Partiamo dai materiali. Allora, principalmente possono essere fatti in tutti i materiali possibili. Lo puoi fare in ceramica, lo puoi fare in marmo, lo puoi fare in altri tipi di pietra. Ho visto fotografie su internet anche di sassolini messi a filo del pavimento, in piatto doccia. E chiaramente lo puoi fare, oltre che in legno, lo puoi fare anche in resina. E secondo me la resina è fra tutte le soluzioni possibili che uno può adottare quella che coniuga di più il risparmio economico e la bellezza. Allora, prima di tutto, come deve essere fatto questo piatto doccia? Nel momento in cui tu cominci a ristrutturare il bagno, devi prevederlo anticipatamente di voler fare il piatto doccia a filo pavimento. Perché chiaramente ci sono delle operazioni che devono essere fatte in fase progettuale che poi devono essere portate avanti. Una su tutti sono gli scarichi. Per esempio, se vai a fare il piatto doccia a filo pavimento, lo scarico della piletta dovrà essere più basso rispetto al filo del pavimento proprio. Perché? Perché a filo del pavimento abbiamo il nostro piatto doccia, per cui tutti gli scarichi della doccia dovranno essere più bassi rispetto al filo del pavimento. Alcune volte abbiamo una profondità necessaria per poter fare questa cosa, altre volte non c'è la profondità. Quando non c'è la profondità, dobbiamo per forza di cosa salire con il nostro piatto doccia, quindi dobbiamo abbandonare l'idea del piatto doccia a filo pavimento. Quando invece c'è la possibilità, allora ci si apre un mondo, perché effettivamente possiamo andare ad avere questo piatto doccia rialzato, che è francamente molto molto interessante. Un altro aspetto prima qual è? È quello che devi far verificare le pendenze del piatto doccia, perché sono fondamentali. Se il piatto doccia non ha una pendenza adeguata, ti ritroverai il pavimento di casa, il pavimento del bagno, sempre allagato. Quindi vanno evitati i ristagni d'acqua, perché nel lungo periodo del ristagno d'acqua, soprattutto se hai dei pavimenti in pietra, o dei pavimenti in resina, o dei pavimenti in legno, vanno a danneggiare la superficie, perché il pavimento in pietra con il calcare tende a formarsi la classica macchia di calcare. Il pavimento in resina, se c'è il ristagno d'acqua, si forma la macchia di calcare, e la resina nel tempo può iniziare ad ammorbidirsi. Campanellino. Ah, ma scusa Guido, ma tu ci hai detto che puoi mettere la resina anche all'interno delle piscine. Perché allora, se rimane un po' di ristagno d'acqua, la resina si ammorbidisce? Semplice. Quando vai a mettere una resina all'interno della piscina, la vai a trattare con dei prodotti specifici che evitano questa cosa, che hanno dei costi pure abbastanza importanti. Nel caso specifico del piatto doccia, in cui tu teoricamente non dovresti avere un ristagno d'acqua, vai ad applicare dei prodotti idrorepellenti che funzionano quando l'acqua cade, ristagna per pochi minuti e poi dopo defluisce. Nel momento in cui l'acqua cade e ristagna per più tempo, a lungo andare questo prodotto comincia a perdere la sua impermeabilità, perché chiaramente non è progettato per poter stare a contatto con acqua H24, e quindi piano piano anche la resina può iniziare, può, non ho detto che succede, però è capitato, può iniziare ad ammorbidirsi. Per cui la verifica delle vendenze del piatto doccia, prima ancora di posare la resina sopra o andare a posare un pavimento, qualsiasi esso sia, è fondamentale. Che succede quindi? Ci facciamo fare la base del massetto, l'abbiamo impermeabilizzata, abbiamo fatto tutto quello che va fatto, magari lì dove è possibile si può prendere un secchio d'acqua, si versa questo secchio d'acqua sul massetto, che è stato fatto, sempre che siano già stati collegati i tubi di scarico chiaramente, io ti ho prescontato alcune cose, poi se non sono state fatte magari prendi una livella, e verifichi effettivamente se il deflusso dell'acqua è regolare. Se non è regolare, ti segni i punti in cui vedi che l'acqua ristagna e lì dovrai lavorare un pochettino con il tecnico che ti ha fatto il massetto per ricontrollare queste pendenze. Una volta che tutto quanto è a posto, allora puoi procedere con la stesura del... della resina, nel caso specifico della resina, oppure con il montaggio del piatto doccia che desideri. Stavo dicendo, allora, fra i vari tipi di materiali che possono essere utilizzati per questi piatti doccia a filo pavimento, abbiamo dei piatti doccia che sono fatti in resina, quindi già stampati in resina, e possono essere presi inglobati dentro il pavimento. Una volta che abbiamo messo quel piatto doccia lì, lì possiamo sbizzarrirci perché sopra quel pavimento possiamo... sono vetro resina, ecco, non mi veniva il termine esatto, dei piatti doccia in vetro resina. Una volta che sono stati montati nel pavimento, li possiamo andare a resinare nel caso in cui avessimo deciso di fare un bagno in resina, oppure possiamo andarli a rivestire con quello che vogliamo. Altro vantaggio del piatto doccia a filo pavimento è che puoi personalizzarlo nei colori, nella forma, se vuoi fargli dei disegni, per cui sicuramente ha un valore aggiunto rispetto al classico piatto doccia in ceramica rialzato che tu lo prendi e lo metti là e basta. Devi farlo antiscivolo, questi piatti, vanno fatti antiscivolo questi piatti doccia? Beh, sicuramente avere una superficie che abbia un minimo di grip non fa male, perché soprattutto se vai su superfici lisce, come potrebbero essere per esempio un marmo, come potrebbe essere una resina che non è trattata, allora sì, con l'acqua secondo me può diventare un po' pericoloso. Per cui parlo per le resine, ma anche per i marmi, ci sono dei prodotti che possono essere applicati direttamente sulla superficie senza che vanno ad alterare l'aspetto estetico che aumentano tantissimo l'attrito del pavimento, del piede sul pavimento. Quindi sono dei trattamenti, a parte che possono essere fatti, che non vanno a incidere troppo sull'aspetto estetico del materiale stesso. Parliamo un pochettino dei pro e dei contro dei pavimenti in resina. Fra i pro, già diciamo che tutto quello che ho detto fin ad ora è principalmente da considerarsi nella categoria pro. Fra i pro, appunto, abbiamo la personalizzazione del materiale, il fatto che vada a rendere il nostro ambiente più grande visivamente, esteticamente, e quindi è un grosso vantaggio per chi ha dei bagni piccolini. Il fatto che, specie se vai a scegliere dei pavimenti resina con il piatto doccia e resina, altro vantaggio è proprio questo qui, che tu puoi andare ad avere un unico pavimento senza soluzione di continuità, ed è bellissimo. Quindi il pavimento che parte dalla porta d'ingresso del bagno e arriva fino a dentro la doccia, che è sempre lo stesso, e non hai tagli, non hai punti di giunzione e via dicendo. Proprio perché, chiaramente, hai tutta quanta la stessa identica superficie. I contro sono, per esempio, che devi fare attenzione alle pendenze, perché altrimenti ti si allaga tutto quanto. Altro pro è il fatto che puoi giocare tantissimo con i box doccia, quindi puoi andare ad avere un box doccia a filo pavimento, un box doccia, se hai la possibilità di farti fare un piatto doccia lungo anche, che ne so, 160-180 cm, puoi andarti a far fare un box doccia senza le porte d'entrata, quindi entrata libera all'interno della doccia, che secondo me è veramente tanta roba. Altri vantaggi sono il fatto che hai una grossa facilità di pulizia. Sulla pulizia, mi raccomando, ti faccio sempre porre l'attenzione sul campanellino del calcare. Se stiamo a Roma, l'acqua di Roma è particolarmente calcarea, quindi potrebbe darti un po' di rogne quella che può essere la pulizia quotidiana. Però, così come hai il tergivetro in gomma per pulirti i vetri della doccia che hai avuto in cristallo trasparente, stessa cosa è per quanto riguarda il piatto doccia. Basterà semplicemente a fine doccia asciugare, quindi far scorrere l'acqua ed evitare che questa ristagni. Perché? Perché se hai scelto un piatto doccia, soprattutto con un colore scuro, l'acqua calcarea di Roma nel tempo potrebbe andarti a macchiare questa superficie. Altro vantaggio è il fatto che se per caso avessimo delle persone con disabilità motoria all'interno di casa, avere una doccia che permette l'ingresso della carrozzina oppure della persona che deambula in maniera difficoltosa, della persona all'interno della doccia senza dover per forza di cose scavalcare, alzare la gamba, salire su un gratino, è sicuramente un'altra cosa che va presa in considerazione. Per cui questa qui potrebbe essere un ulteriore valore aggiunto. Di contro, a parte quello che ti ho detto del colore, che con il calcare sinceramente mi viene da aggiungere, come ti ho già detto, probabilmente già ripetuto, ma me lo ripeto un'altra volta il discorso di verificare le pendenze perché se poi dopo hai dei ristagni d'acqua all'interno della doccia diventa una dottura di scatole. È capitato di aver terminato dei lavori di persone che avevano terminato i lavori del bagno e poi la prima doccia che sono fatta e gli era rimasta l'acqua sotto al pavimento. Per cui controllate sempre bene questa cosa qui così che poi dopo non ci stanno problemi dal punto di vista pure dell'allagamento del piatto doccia pure e proprio perché poi se si allaga il piatto doccia si può allagare pure il pavimento. Per cui occhio. Bene, io penso di dirti detto tutto. In realtà l'argomento non era bassissimo. Sono queste le nozioni principali che devi tenere in considerazione se dovessi decidere di volerti fare un piatto doccia a filo pavimento. Noi ci vediamo la prossima volta iscriviti al canale metti un like a questo video ti ricordo che abbiamo un canale Instagram a cui puoi iscriverti per vedere un po' di reel fondamentalmente in cui facciamo vedere mentre facciamo alcune lavorazioni. Ci vediamo presto alla prossima Ciao